Un giovane che investa in un piano d'accumulo rateale 50 Euro al mese, alla fine del primo anno avrà un patrimonio all'incirca di 600 Euro, che verrà tassato con l'imposta minima di 34,20 Euro, stiamo parlando di circa il 6-7%. Un milionario, una persona che abbia un milione depositata su un conto corrente o alle poste o in una polizza vita rivalutabile, anche lui pagherà 34,20 Euro, peccato che qua stiamo parlando di un'aliquota percentuale intorno allo zero. In questo sito spieghiamo cosa c'è di sbagliato oggi nell'imposta di bollo. L'imposta di bollo va riformata e va resa uguale per tutti e per tutti i tipi di investimento o di impiego del risparmio. Grazie per la visione!